Sindacato in rivolta dopo il via libera venerdì sera al bilancio della provincia. CGL e Cisle Will invitano il presidente Massimo Trespidi a fare un'operazione verità sui documenti. A scaldare i rappresentanti sindacali, in particolare la scomparsa del fondo provinciale istituito due anni fa per evitare gli aumenti pari fino al 35% nei territori decentrati sugli abbonamenti degli studenti. Siamo rimasti esterefatti. Il 4 di giugno avevamo avuto su nostra richiesta un incontro col presidente della provincia. avevamo avuto ampie rassicurazioni perché c'erano degli avanzi negli anni precedenti che consentivano comunque di bilanciare i mancati trasferimenti di quest'anno. Non c'è mai stato parlato di vendita delle quote partecipate. Non c'è stato comunicato nulla rispetto al taglio del contributo per gli abbonamenti degli studenti. Siamo esterefatti. Ci aspettiamo che il presidente della provincia faccia un'operazione verità cosa che non è avvenuta con noi nell'incontro del 4 di giugno.